Sanità autisti utilizzati come soccorritori, il 118 scende in piazza contro la ASL. Teramo Ambiente, turni di servizio, si torna l'antico, sindacati e azienda tornano a parlarsi dopo lo sciopero. Pineto, 2000 persone, salutano con rose e palloncini bianchi il piccolo Marco, il baby calciatore. La manifestazione, lo sport, torna in passerella per le piazze e le vie del centro città. La liberazione, una taga al Mazzini Teramo, ricorda l'eroismo del suo concittadino Mario Capuani. Sport, calcio, il Teramo in ansia per Cenciarelli, il mediano in forse per la trasferta di mercoledì ad Ancona. Buongiorno, buon inizio settimana, bentornati all'appuntamento con la prima edizione del nostro telegiornale. Gli autisti del 118 scendono in piazza mercoledì per un sit-in di protesta sotto la sede dell'ASL di Teramo per manifestare contro l'organizzazione dei nuovi turni di lavoro. Portavoce delle istanze della categoria è il segretario della funzione pubblica della CGL, Amedeo Marcattini. Vediamo. Mercoledì 30 settembre i sindacati hanno organizzato un sit-in sotto l'ASL di Teramo con gli autisti del 118. Per rivendicare cosa? Sì, come CGL e Cisleguilla abbiamo organizzato questa presenza degli autisti perché intanto vogliamo sapere quali sono le mansioni dell'autista di ambulanza. Dal momento in cui questi lavoratori non possono partecipare ai progetti, non possono partecipare alle prestazioni aggiuntive, perché la ALS continua a fargli fare ancora un lavoro sanitario? E poi vogliamo anche parlare dell'organizzazione del lavoro che secondo noi dal momento in cui è stato cambiato, e questo l'abbiamo anche denunciato in un comunicato stampa, dove chi ha preso anche delle prebende per questo cambiamento di organizzazione del 118, secondo noi non funziona. Quanti sono gli autisti coinvolti in questa vicenda? Gli autisti coinvolti in questa vicenda sono una quarantina, 40-45 dipendenti, ma a prescindere poi dal numero, ripeto, noi vogliamo un'attività di emergenza che dia una funzione efficiente, che sia una funzione efficiente nei riguardi del cittadino, e credo che sia importante questo sit-in che noi mercoledì andremo a fare sotto la ALS. Cosa vi aspettate dai vertici dell'azienda sanitaria? Ma intanto ci aspettiamo dai vertici, noi sono anni che poniamo questo problema, una discussione, un percorso, l'avvio di un percorso, e poi siccome abbiamo anche delle proposte che ci ascoltino e ci dicano se le nostre proposte sono reali oppure sono soltanto fantasie. E sono stati ripristinati oggi i nuovi turni di lavoro degli operatori della raccolta Porta a Porta, che furono al centro dello scontro che ha visto contrapposti nei giorni scorsi i sindacati contro i vertici della terramoambiente. Restano tuttavia altri nodi da sciogliere, oggetto di un nuovo confronto in programma nei prossimi giorni. Il servizio. Sono entrati in vigore da oggi i nuovi turni di lavoro da sei ore fisse che furono oggetto del braccio di ferro tra terramoambiente e sindacati e che portarono sia a luglio scorso che a mette settembre allo sciopero della raccolta differenziata. Su questo fronte dunque è tornato il sereno, ma per i sindacati restano aperte altre questioni di cui discutere. In primis la programmazione delle ferie. L'azienda ha infatti introdotto di recente la programmazione semestrale delle ferie, uno strumento che il presidente della municipalizzata, Pietro Bozzelli, ha chiarito essere funzionale a migliorare l'organizzazione del lavoro, ma anche a prevenire in anticipo, attraverso la migliore distribuzione del personale, situazioni di criticità nella raccolta dei periodi effestivi. Il riferimento è stato il periodo natalizio dello scorso inverno, quando le copiose nevicate e le diverse unità in ferie fecero registrare molti disguidi nella raccolta e costrinsero l'azienda a ricorrere all'uso di interinali. I sindacati vogliono però fissare insieme all'azienda i criteri per l'impostazione del piano ferie, anche per evitare il ripetersi delle sanzioni disciplinari che l'azienda ha già applicato a 18 unità dopo il periodo estivo. Sul tavolo ci saranno anche i problemi legati alla distribuzione dei carichi di lavoro sui diversi circuiti e alla sicurezza dei mezzi. Un aspetto, quest'ultimo, su cui l'azienda sarà probabilmente meno disposta a trattare, dal momento che sia il CDA che il Direttore Generale dei Servizi, Pierangelo Stirpe, hanno ribadito che l'azienda ha ottenuto tutte le certificazioni di qualità che garantiscono la sicurezza dei lavoratori e predisposto diversi corsi di formazione per preparare il personale in merito. Di questi aspetti si tornerà a parlare mercoledì pomeriggio nel corso di un confronto tra sindacati e CDA della Team. Fabio Benintendi della CISL e Amedeo Marcattili della CGL precisano che i sindacati, da parte loro, abbasseranno l'ascia di guerra. Andremo in azienda per ascoltare le loro proposte, dicono i sindacati, sperando che questa volta non ci sia la solita dichiarazione unilaterale di intenti, ma che il CDA sia aperto a soluzioni condivise. Forti preoccupazioni esprime il consigliere comunale di Teramo Alberto Melarangelo per le condizioni strutturali della chiesa di Sant'Antonio e in particolare per la precarietà della tenuta del tetto. Il consigliere comunale sollecita interventi tempestivi rimesse in sicurezza. Vediamo. Una parte del tetto dell'antica chiesa di San Giuseppe in circonvalazione spalato a Teramo è crollato da tempo. Il consigliere comunale del PD Alberto Melarangelo ha presentato un'interrogazione in consiglio comunale ma non ha avuto alcuna risposta. Sì, si tratta di una chiesa molto antica, nel centro storico di Teramo, sotto la curva est del campo sportivo. È crollato il tetto, inizierà tra poco l'inverno e il rischio è che la chiesa crolli. Lei cosa chiede all'amministrazione? Io ho chiesto, pur essendo la chiesa ovviamente della Curria e non avendo l'amministrazione responsabilità diretta, però ho chiesto al sindaco, essendo un patrimonio non solo religioso ma anche storico-artistico, di istituire un tavolo insieme alla Curria, anche ai tanti operatori dell'edilizia che magari sono disponibili a dare una mano affinché questo luogo venga messo in sicurezza, quantomeno per evitare il crollo. È una chiesa chiusa? È una chiesa per il momento chiusa, ma ospita un altare barocco del Maieschi, che è quello che ha fatto le opere nella sagrestia della cattedrale, opere del Seicento, è una chiesa cara ai Teramani, aperta solo il giorno di San Giuseppe. Ripeto, si trova nel centro storico della città, avere chiese che crollano di questi tempi nel centro storico, penso sia una cosa terribile ed è un problema anche del sindaco e quindi di tutta la comunità, in primis il sindaco che non può consentire il degrado del proprio patrimonio, o meglio, del patrimonio della collettività, soprattutto perché è un patrimonio religioso, oltre che patrimonio storico, artistico e culturale. Quindi chiediamo da subito un intervento prima che la chiesa crolli definitivamente, non ce lo possiamo permettere. Le piazzole di sosta della superstrada Terramo Mare continuano ad essere sede privilegiata per il lancio delle buste e dell'immondizia, uno spettacolo indegno che dimostra l'inciviltà degli automobilisti, ma soprattutto segnala il grande traffico sulla direttrice dell'Adriatico come il nostro territorio sia abbandonato nell'incuria e nell'indifferenza. Perché se da un lato persiste la maleducazione e lo scarso senso civico di chi abbandona i rifiuti per strada, dall'altro fa altrettanto scalpore la poca attenzione alla pulizia e alla manutenzione di un'arteria di grande scorrimento. Le immagini che vi mostriamo sono eloquenti, dimostrano come sulla Terramo Mare, e non in una stradina secondaria nascosta e non frequentata, oltre il visibile della piazzola e del manto di asfalto scambiato per discarica, esista una sedimentazione dei rifiuti di ogni tipo, difficilmente immaginabile per un'occhiata veloce e superficiale. Come accade per altre situazioni del genere, una su tutte la San Nicolo Garrufo, dove persiste il condominio tra l'inciviltà e l'assenza di controlli e manutenzione, che trasforma il territorio in una location uguale a quelle delle ben noti abituali di altre zone da terzo mondo. La sinistra resta con D'Alfonso, immolata sull'altare delle alleanze del governatore D'Alfonso, sulla poltrone in giunta regionale di SEL, siede da alcuni giorni Andrea Gerosolimo, ex Forza Italia, oggi di Abruzzo Civico. La sinistra resta però in maggioranza con l'inedito incarico di sottosegretario per Mazzocca. Per SEL, programma e responsabilità prevalgono sulle poltrone, ma da oggi, a sei mesi, nessuno sconta D'Alfonso. Vediamo. Per fare arrogante, dicono quelli di SEL, li ha scaricati dalla sua giunta per far posto all'ex forzista capriccioso Gerosolimo. Il popolo della sinistra inghiotte il rospo e Mario Mazzocca, nonostante il grande lavoro svolto in un anno da assessore, che ha documentato in un voluminoso dossier già consegnato, lui sì, alla Commissione di Vigilanza, accetta, ob torto collo, l'originale incarico di sottosegretario per portare avanti le deleghe all'ambiente ed ecologia con grande responsabilità, SEL sì, ancora una volta, ma è l'ultimo credito che concedono ad Alfonso, che ha sei mesi di tempo per fare meno chiacchiere, proclami e rimpastini e finalmente fatti che nella sua giunta solo SEL ha dimostrato saper rendere concreti. Sul posizionamento meno su questo, quello scranno, insomma noi non abbiamo fatto mai distinguo di varia natura, noi riteniamo invece che se si può e noi riteniamo che si possa noi essere davvero utili e operativi per la nostra regione Abruzzo, dobbiamo valutare se ci sono le condizioni di agibilità pratica, in primo luogo, e poi politica. In questa fase noi abbiamo valutato che queste condizioni ci sono. Le priorità di SEL erano e sono chiari e Mazzocca è lì, per evitare ritardi e sbandamenti dagli interventi sui fiumi e la depurazione che saranno realizzati entro l'estate 2016. Perché? Il 30% degli interventi di questi 170 milioni di euro che noi abbiamo reso concretamente utilizzabili, si stanno già facendo. Abbiamo la certezza che entro il 30 novembre tutti gli interventi verranno cantierati. E ancora l'Agir e la riforma dell'Arta? Debba essere valorizzato il ruolo che l'Arta stessa debba avere nei confronti della comunità abruzzese, e sia per quanto riguarda invece l'Agir e il sistema regionale dei rifiuti che debba essere messo in condizione di poter operare al meglio, soprattutto nell'interesse degli abruzzesi. L'Abruzzo, grazie a SEL, è osservato speciale a livello nazionale nella battaglia contro la petrolizzazione e a favore dell'energia alternativa. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità il referendum ed è solo un primo passo, un vero successo per SEL, ma per Mazzocca non bastano gli slogan. Adesso c'è il lavoro duro, ora si fa sul serio. D'Alfonso è avvertito. Certamente non ci teneremo indietro se talune situazioni poi non risponderanno a quelle che noi riteniamo essere, le esigenze pubbliche, quelle degli abruzzesi. Palloncini bianchi dei compagni di scuola, rose e bianche delle ragazze della pallavolo allenate dalla mamma Marta. 2.000 persone a Pineto hanno partecipato all'interno e all'esterno della chiesa di Sant'Agnese all'ultimo saluto per il piccolo Marco Calabretta, 9 anni, il baby calciatore dei pulcini del Pineto, morto venerdì dopo un malore accusato, mentre si stava allenando con i suoi compagni nel campo sportivo del centro costiero. Tutto per una malformazione cardiaca congenita, come accertato dall'autopsia. Straziante ma composto in chiesa il dolore dei genitori di Marco, papà Giuseppe e mamma Marta, inconsolabile quello dei compagni di scuola e di squadra. A rito funebre era presente anche la squadra del Pineto Calcio, che oggi non è scesa in campo, così come le formazioni giovanili in segno di lutto, e quelle del Pineto e del Silvi Volley, quest'ultima allenata dalla madre di Marco per anni, pallavolista. Accanto a loro i sindaci di Pineto, Atri e Silvi, Roberto Errocchio, Gabriele Astolfi, Francesco Comignani. Sono stati proprio i compagni di Marco, che all'uscita del piccolo ferretro hanno lasciato andare in aria tanti palloncini bianchi a lui dedicati. Vediamo appunto il riassunto di quanto accaduto in queste foto scattate dal fotografo Luciano Adriani. È stato celebrato ieri mattina a Rocca Santa Maria il quindicesimo anniversario dalla realizzazione del monumento in onore dei caduti di Sella Ciarelli, dove nel 1943 furono uccisi carabinieri ed alpini dall'esercito tedesco. Vediamo. Sono arrivati non solo da Teramo, ma anche da Vasto, Furci, Fossa Cessia, i carabinieri in congedo e gli alpini che hanno voluto ricordare l'ecidio di Sella Ciarelli. È stato celebrato ieri mattina, infatti, a Rocca Santa Maria, il quindicesimo anniversario dalla realizzazione del monumento in onore dei caduti di Sella Ciarelli, dove nel 1943 furono uccisi carabinieri ed alpini per opera dell'esercito tedesco. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri Martiri di Sella Ciarelli di Teramo, ha voluto ricordare i carabinieri Leonida Barducci, Settimio Onnecchini ed Angelo Cianciosi all'epoca dei fatti in servizio a Pascellata e l'alpino Donato Renzi, trucidati dai soldati tedeschi il 26 settembre del 1943, in seguito ad una battaglia vittoriosa della resistenza terramana contro una colonna motorizzata tedesca. La cerimonia ha avuto inizio alle 10.30 a Paranesi, da dove i presenti si sono diretti verso Sella Ciarelli, nel piazzale antistante, il monumento ai caduti, in seguito la posizione di una corona da loro, in prossimità del monumento ai caduti e la celebrazione eucaristica. Un grande esempio di senso del dovere e di determinazione, ma la cosa più strana è che questo episodio si era completamente dimenticato e da poco che viene riportato alla memoria e viene riportato alla memoria in un momento in cui questo sacrificio, questo spirito di sacrificio, questo senso del dovere diventa di grandissima attualità in un momento di grande difficoltà sociale, economica, in cui forse stiamo recuperando il senso di partecipazione, il senso del dovere, cioè stiamo recuperando la consapevolezza di dover fare ognuno la sua parte. Ed il fatto che siano arrivati da tutto l'Abruzzo, non solo sindaci, ma anche persone comuni, alpini chiaramente, dimostra che queste manifestazioni devono essere portate avanti. Certo, devono essere portate avanti per ricordare, per ricordare, come dicevamo, ai nostri giovani che dobbiamo coinvolgere in queste manifestazioni affinché non siano solo un'espressione di cerimonia, un'espressione liturgica, ma sia un modo per rinnovare davvero i sentimenti che hanno animato quelli che poi hanno fatto questo paese, hanno fatto grande questo paese. L'ASL di Teramo, la regione Abruzzo e Lampi hanno voluto ricordare l'eroe della resistenza teramana Mario Capuani con una targa scoperta questa mattina nel reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Teramo. Vediamo. 70esimo anniversario della liberazione celebrato a Teramo nel reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Teramo dove è stata apposta una targa in memoria di Mario Capuani, pediatra e partigiano. Mario Capuani era un pediatra, un giovane pediatra conosciuto e affermato come professionista. Lui fu l'ispiratore della battaglia di Bosco Martese. Non va dimenticato che Bosco Martese rappresentò il primo scontro in campo aperto tra l'esercito nazista e i partigiani. Ricordiamo come morì Mario Capuani. Mario Capuani fu catturato il giorno dopo la battaglia di Bosco Martese fu portato nel luogo della battaglia i nazi fascisti volevano da lui i nomi degli altri partigiani. Mario si comportò da grande italiano, da eroe e fu assassinato con un colpo alla nuca. È un'iniziativa che parte da Regione Abruzzo e Asle di Teramo. Di Teramo certamente in memoria di questo illustre concittadino della provincia esempio della resistenza italiana. Tra le altre cose medico e pediatra quindi questo è il posto più idoneo per ricordare la sua figura. Avete deciso di svelare questa targa proprio in una ricorrenza importante il settantesimo anniversario della liberazione. È il settantesimo anniversario della liberazione e ieri 72 anni della morte del martirio del dottor Capuani. Con 4 milioni 200 mila euro investiti sul territorio attraverso le risorse della programmazione 2007-2013 il Gall Leader Teramano traccia il bilancio della propria attività e apre la riflessione sulle nuove prospettive per l'economia rurale. L'occasione sarà la tavola rotonda Il valore dell'economia rurale in programma il prossimo 30 settembre alle 15 presso la sala delle lauree di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo. Torna Pescara la Notte Europea dei Ricercatori la manifestazione che si svolge in tutta Europa è dedicata alla scienza e alla ricerca. Vediamo. Una lunga notte interamente dedicata alla scienza e alla sua divulgazione è la Notte Europea dei Ricercatori una manifestazione che si svolge ogni anno l'ultimo venerdì di settembre in circa 300 città delle 24 nazioni dell'Unione Europea. Per Pescara si tratta della terza edizione all'Aurum dove la manifestazione si è svolta erano presenti molti studenti dei vari dipartimenti dell'Ateneo Gabriele D'Annunzio che hanno dimostrato sperimenti e illustrato progetti guidando il pubblico fra leggi della fisica pareti per scalate metropolitane degustazioni di prodotti tipici dibattiti fra cultori della scienza e del folklore. Fra i vari spin-off presenti in sala anche Smart Society ideato dal professore Gianmarco Cifaldi dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara che ha spiegato quanto siano importanti questi progetti per promuovere nel mercato libero la ricerca in modo da riuscire ad ottenere i finanziamenti necessari ad andare avanti. In questo stand se notate con la telecamera abbiamo una serie di strumenti di query code che sono dei link che noi abbiamo costruito con delle web application dedicati per fare una miriade di cose da comprare un caffè a pagare un biglietto nell'autobus ad esempio i visitatori dovranno se vogliono ovviamente con un'altra web application esprime il proprio gratimento di quello che hanno visitato che è un feedback per noi molto importante perché ci aiuterà a migliorare magari per la prossima edizione. Torniamo a Teramo circa 150 attività sportive tornano in vetrina sabato 3 ottobre per animare la settima edizione di Sport sotto le stelle l'iniziativa promossa dal comune per omaggiare l'impegno delle società in una serata di festa che coinvolge anche il commercio e gli artisti terramani in servizio. Lo Sport sotto le stelle a Teramo torna sabato prossimo? Sì, ormai siamo arrivati alla settima edizione sarà una giornata ricca di divertimento di sport di musica di artigianato di delizie siamo contenti perché siamo arrivati forse a un'edizione dove si può chiamare Notte Bianca Notte Bianca perché siamo appunto in ogni ancolo del centro storico ci sarà divertimento ci sarà tantissime attività sportive Quante discipline porterete in piazza? Sono circa 150 attività sportive sono circa 60 federazioni presenti tantissime società sportive presenti devo ringraziarle perché senza che loro ho chiaro che questa edizione non poteva avvenire Sì, torna la settima edizione una bella manifestazione come è oramai da sette anni consecutivi quest'anno diciamo una partecipazione ancora maggiore degli anni passati insomma oramai una manifestazione consolidata ripeto questo è un evento poliedrico che riguarda lo sport ma riguarda la cultura riguarda l'arte culinaria riguarda la musica insomma davvero davvero una città che per sabato vivrà di tanti tanti eventi e tante manifestazioni una grande partecipazione di tante associazioni sportive di tante federazioni Trattandosi di una notte bianca dello sport avete chiesto ai commercianti terramani se vogliono di restare aperti anche oltre l'orario stabilito Sì naturalmente abbiamo fatto un tavolo permanente per il commercio con l'ordine del giorno notte dello sport insieme a Guido e abbiamo chiesto alle attività commerciali come facciamo per tutti gli eventi organizzati nel centro di Teramo nel centro città di rimanere aperti magari anche di fare come è successo per la Mille Miglia di fare delle vetrine a tema che possano attirare gli utenti e soprattutto di rimanere aperti perché questo darebbe anche alla città una sorta di di veste un po' più appetibile quindi noi è un invito naturalmente che facciamo ai commercianti non li possiamo obbligare però spero che almeno quelli del centro storico nelle quali zone ci sono attività sportive poi che che vengono fatte quella sera rimangono aperte e sabato 3 ottobre l'associazione culturale nuove sintasi organizza la presentazione del libro il ribelle di regime la funzione antisociale delle canzoni di De Andrè interverrà l'autore Michele Antonelli l'incontro si terra presso la sala consigliare del municipio di Bellante paese l'ingresso è libero è stata la riserva di Santa Filomena il luogo dove i giovani studenti di Monte Silvano si sono formati ed hanno informato alla legalità nell'ambito del progetto Educals vediamo sono 64 gli studenti dell'istituto Alessandrini di Monte Silvano che hanno ricevuto presso la sala consigliare del comune i voucher nell'ambito di Educals Reserve Natura Sicura il progetto realizzato in collaborazione con la regione Abruzzo e coordinato dall'avvocato Federico Gentilini nei mesi di luglio e agosto i ragazzi sono stati impegnati all'interno della pineta di Santa Filomena di Monte Silvano svolgendo dopo un percorso di formazione e orientamento durante l'orario scolastico attività di comunicazione e prevenzione per la sicurezza e la riqualificazione della riserva naturale con attività pratiche direttamente sul campo gli studenti partecipanti hanno imparato a riscoprire la riserva naturale di Santa Filomena rispettandola e considerandola un punto di riferimento per la comunità l'attività in pineta sotto la costante supervisione dell'ufficio per la biodiversità territoriale del corpo forestale dello Stato attua per l'ottavo anno consecutivo l'impegno di Montesilvano per l'educazione alla legalità attraverso concrete esperienze di lavoro occasionale accessorio remunerato con almeno 60 euro di voucher imps per ciascun studente grazie al finanziamento par fsc 2007-2013 con cui sono state acquistate tra l'altro 10 mountain bike a disposizione degli studenti e il materiale informativo per l'informazione e l'orientamento nel percorso della pineta durante la loro attività i giovani studenti hanno somministrato circa 350 questionari a residenti e turisti i risultati dei sondaggi verranno presentati il 4 dicembre prossimo nel corso del sesto premio Educals al quale parteciperanno tra gli altri la professoressa Maria Falcone l'autore e regista Pupiavati e Francesco Rutelli già presidente dell'associazione Priorità Cultura Previsioni per oggi in Abruzzo al pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia lungo la dorsale appenninica poco nuvoloso sui settori orientali in serate della notte nuvoloso con deboli piogge lungo la dorsale parzialmente nuvoloso sulle aree adriatiche temperature in diminuzione massime comprese tra 16 e 19 gradi nelle conche alquilane marsicane tra 22 e 25 gradi sulle pianure adriatiche venti moderati settentrionali mari poco mossi o mossi in provincia di Teramo al pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui massicci appenninici moderatamente nuvoloso sulle aree orientali in serate della notte nuvoloso con deboli piogge sui rilievi moderatamente nuvoloso sui settori adriatici temperatura in diminuzione massime comprese tra 19 e 22 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 20 e 23 gradi sulle coste venti moderati settentrionali mari poco mossi o mossi con il morale rinfrancato per la bella vittoria contro il savona che ha dimezzato i punti di penalizzazione il Teramo dopo un giorno e mezzo di riposto torna ad allenarsi oggi pomeriggio sul sintetico del Bonolis i biancorossi devono preparare la trasferta sul campo dell'Ancona la prima delle tre gare che furono rinviate per le ormai vicende extracalcistiche che hanno coinvolto la squadra del patron Campitelli e da Delconero di Ancona il fischio d'inizio è fissato per le 20 e 30 di mercoledì sera contro i Dorici mister Vivarini dovrebbe fare a meno di cenciarelli nelle prossime ore il mediano ci sottoporrà ad un'ecografia per valutare l'entità dell'infortunio riportato al flessore della coscia destra si spera che non sia nulla di grave il pericolo da scongiurare e che uno stiramento comporterebbe uno stop di circa un mese circa 2000 ai tifosi allo stadio sabato per la gara contro il Savona ma una parte della tifoseria si spacca dal resto vediamo in che senso una risposta secca decisa che non lascia adito a dubbi 2020 spettatori sono stati tanti e tutti molto calorosi i tifosi biancorossi che hanno assistito ieri al positivo esorio del Teramo contro il Savona a chi si aspettava un Bonolis deserto o quasi la tifoseria del vecchio diavolo ha inviato un messaggio eloquente vogliamo riprenderci sul campo quello che abbiamo perso nelle aule dei tribunali nella terribile ed infuocata estate appena trascorsa un lungo doveroso e meritato applauso all'inizio del match all'indirizzo di Vivarini e dei suoi ragazzi quelli che hanno scelto di rimanere su una nave anche durante e dopo la tempesta poi 90 minuti di tifo incessante dalla curva e della tribuna a sostegno di una squadra che ha lanciato subito segnali incoraggianti insomma il pubblico di Teramo troppe volte tacciato anche in maniera superficiale di essere pubblico comodo e dei gusti difficili ha dimostrato di voler credere ancora in questa squadra in questa realtà che esiste da oltre 100 anni i 464 abbonati finora registrati a campagna abbonamenti non ancora chiusa rappresentano un dato che fa segnare un record per una piazza che sta dimostrando a tutti di saper vivere di calcio anche nei momenti più difficili alla faccia di chi in estate ha insistito nel dire che la tradizione calcistica teramana sia altrove e soprattutto che la Teramo sportiva avrebbe abbandonato la baracca alle prime difficoltà massima fiducia dunque per Vivarini e ragazzi in vista di un mese di ottobre zeppo di impegni e dal quale sarà necessario uscire indenni più delicato invece il rapporto tra il presidente Campitelli e la curva bianco-rossa lo stricione esposto dal gruppo Teramo Zezza non lascia adito a dubbi anche in questo caso sostegno la squadra sì ma chiaro invito al numero uno Prutino a vendere quanto prima il Teramo in perfetta coerenza con l'atteggiamento adottato sin dal mese di giugno i gruppi organizzati della tifoseria locale hanno mal digerito le sentenze estive che hanno condannato il Teramo lo scorso 14 settembre in conferenza stampa Campitelli aveva chiesto alla curva una risposta in tempi brevi sulla posizione che avrebbero assunto i supporter del diavolo questa risposta l'hanno fornita alla prima occasione utile ora continueranno a sostenere incessantemente la squadra come hanno sempre fatto mostrando un atteggiamento però di totale indifferenza verso la società in attesa di novità la palla insomma torna nuovamente a Campitelli che avrà tutto il tempo di fare le proprie valutazioni sul futuro sul proprio futuro alla guida del diavolo una cosa però è certa in una trattativa è necessario che qualcuno venda ma soprattutto che qualcuno acquisti e che questo qualcuno non sia il primo avventuriero di turno magari dall'accento milanese o campano o peggio ancora straniero pronto a divertirsi con un giocattolo a cui i tifosi biancorossi hanno dimostrato di tenere in maniera particolare come ricordato dunque mercoledì il Teramo tornerà in campo contro l'Ancona per recuperare il primo dei tre match rinviati a causa delle note vicende legate al processo sportivo e ai biancorossi a proposito della gara di dopodomani la società marchigiana comunica che già attiva la prevedita dei biglietti in favore dei tifosi del Teramo i tagliandi potranno essere acquistati presso il caffè dell'Ormo e disco boom oppure su internet attraverso il circuito telematico booking show il costo è di 10 euro l'Ancona comunica inoltre che il giorno della gara i botteghini per i tifosi ospiti resteranno chiusi quindi i biglietti sono acquistabili fino alle 19 di domani e adesso torniamo alla giornata di campionato di sabato scorso andiamo a vedere tutti i gol realizzati nelle gare del Gironi B di Lega Pro sono state 12 le reti realizzate nella quarta giornata del campionato di Lega Pro Girone B soltanto Lucchese Siena e Pistoiese Sant'Arcangelo sono terminate con un pareggio a reti bianche mentre negli altri campi del Girone almeno una squadra è andata a segno come nel caso del match Ancona-L'Aquila dove i 12 hanno portato a casa i tre punti grazie alla rete di Lombardi al decimo del secondo tempo al Bonolis di Pienodaccio invece sia il Teramo che il Savona entrambe all'esordio stagionale hanno messo il pallone in fondo al sacco ma a spuntarla sono stati i diavoli che sono passati in vantaggio con Da Silva al nono del primo tempo facendosi però raggiungere da Steffè al 27esimo a regalare la vittoria ai Biancorossi ci ha pensato Altobello al 39esimo del secondo tempo il trionfo casalingo del Rimini contro la Maceratese è arrivato invece nell'ultimo dei 5 minuti di recupero con Ragazzi bravissimo nello stacco aereo tra Rezzo e Pisa è finita in pareggio un 1-1 frutto di due calci di rigore al sesto ad andare in vantaggio è l'Arezzo con Capece ma a sistemare le cose per i pisani riccia il 24esimo del secondo tempo sempre su penalty 1-1 anche tra Prato e Lupa Roma a passare in vantaggio al 18esimo sono stati gli ospiti con Leccese la parità la ristabilita a Capello qualche minuto dopo esattamente al 29esimo il Ponte Dera perde 2-0 in casa contro la Spal grazie ad una doppietta di Finotto la risolve lui quindi prima al 31esimo del primo tempo e poi al 42esimo del secondo tempo dopo un'azione insistita da parte della squadra Spallina alla Cararesi infine è bastato un gol di Gnaorè all'ottavo del secondo tempo per battere il tutto cuoio e portare a casa tre punti che fanno morale e classifica in serie di domenica agrodolce per le formazioni abruzzesi al pareggio del Giulianova e alla sconfitta dell'Avezzano hanno fatto da contraltare le affermazioni esterne di Chieti e San Nicolò quest'ultima la prima vittoria in campionato ma vediamo tutti i risultati maturati nel weekend Campobasso Chieti 0-4 Castelfilardo Avezzano 1-0 Fano-Recanatese 5-0 Fermana Agnonese 2-2 Giulianova Mitterlina 1-1 Isernia Folgo-Reveregra 2-0 Matelica Iessina 3-1 Monticelli San Nicolò 0-2 Vispesaro San Benedettese 1-4 vediamo la classifica che vede in testa a pari merito Fano e San Benedettese con 13 punti poi Isernia e Monticelli 10 Fermana 9 8 punti per il Chieti 7 per Campobasso e Matelica Castelfilardo e San Nicolò 6 punti 5 per Avezzano e Recanatese 4 punti per Folgo-Reveregra Giulianova Agnonese Vispesaro 3 punti per la Mitterlina chiude la Iessina con 2 punti ma sul turno che si è disputato ieri seguiamo questo servizio 29 reti realizzate nessuno 0-0 registrato sono questi i principali dati statistici usciti fuori nella quinta giornata di campionato che si è giocata ieri pomeriggio nel Giron F di Serie D un turno contraddistinto dalle vittorie ben 7 di cui 4 raccolte dalle squadre viaggianti solo 2 invece i pareggi quello tra Fermana e Agnonese e quello nel derby tutto abruzzese tra Giulianova e Amiternina 1-1 il punteggio finale all'iniziale vantaggio messo a segno a inizio di ripresa da vita ha risposto il gol di Lucas Lennart attaccante che in passato ha vestito anche la casacca del Teramo tante recriminazioni per l'11 giallorosso che si è visto annullare un gol proprio al novantesimo per un presunto fuorigioco millimetrico di Giampaolo rammarico a parte quello raccolto dai Giuliesi è un punto che cambia poco l'aspetto della classifica visto che la formazione di mister Giorgini si trova impelagata nelle zone basse e tutto questo alla vigilia di un calendario tutt'altro che semplice con due scontri diretti al cospetto di altrettante concorrenti nella lotta per evitare i play-out tra il Teramane invece esulta il San Nicolò che in casa della matricola terribile Monticelli ha raccolto il suo primo successo stagionale al Del Duca è finita 2-0 decisive le reti messe a segno una per tempo da Moretti e Margarita con i tre punti raccolti la formazione di mister Epifani si è portata a quota 6 riscattando un avvio di campionato tutt'altro che scoppiettante per quanto riguarda le altre a far rumore è stato soprattutto il clamoroso K.O. del Campobasso al secondo tonfo di fila tra le muramiche dopo lo 0-1 rimediato contro la Samba due settimane fa i rosso-blu sono caduti sotto i colpi del Chieti capaci di espugnare il capoluogo molisano con un rotondo 4-0 nel match del Romagnoli a recitare la parte del Leone è stato Dosantus autore di una tripletta al termine della partita da registrare la pesante contestazione dei tifosi del Campobasso ai danni della squadra e di Roberto Cappellacci ma il tecnico di Tortoreto almeno per il momento resta al suo posto rimanendo in tema di contestazioni ha raccolto qualche fischio di troppo anche l'avezzano finito al tappeto sull'ostrico campo di Castelfidardo 1-0 gol di Speranza con i marsicani che hanno incassato così il loro secondo K.O. esterno dall'inizio della stagione nelle alte sfere della classifica invece c'è da registrare l'allungo di Fano e San Benedettese che hanno liquidato le dirette avversarie seppellendole sotto una valanga di reti il Granata hanno vinto contro la Re Canatese 5-0 con doppiette di Gucci e Sivilla mentre il Rosso Blu a Benelli di Pesaro hanno calato il poker 1-4 reti di Titone Barone Pezzotti e Bonvissuto Ancora un cambio della guardia in vita al campionato di eccellenza bruzzese adesso infatti comanda il paterno i marsicani hanno vinto 2-0 a Martinsicuro e approfittando del contemporaneo mezzo passo falso del San Salvo si sono portati al primo posto in classifica questi comunque i risultati del weekend Capistrello San Buceto 2-0 Celano Albadriatica 0-1 Cupello Vastese 0-3 Martinsicuro Paterno 0-2 Montoro 88 Morro d'Oro 0-0 Pineto Francaville è stata rinviata Angolana Miglianico 0-1 Torrezze Acqua e Sapone 1-0 Val di Sangro San Salvo 0-0 vediamo la classifica che vede in testa come dicevamo il Paterno con 11 punti a seguire Capistrello San Salvo Vastese 10 punti Albadriatica Miglianico 9 Morro d'Oro 8 Martinsicuro Pineto Sambuceto 7 punti naturalmente il Pineto ha una gara in meno ricordiamo che la partita non è stata giocata ed è quindi stata rinviata per la morte del piccolo baby calciatore poi Celano Cupello Montoro 88 Torrese 5 punti Renato Curi Angolana 4 punti Francavilla Val di Sangro 3 punti anche chiaramente il Francavilla ha una partita in meno che doveva giocare con il Pineto e poi Acqua e Sapone chiude a 0 punti è il momento quindi del basket buona la prima per Campli e per Amobasket 2015 per entrambe gli esorbi nei rispettivi campionati di Serie B e Serie C Silver è condito da un trentello rifilato alle avversarie sa di impresa ovviamente più quella dei farnesi di Coccio e Melina che sul difficile campo del Mola non fanno battere ciglio agli avversari pugliesi vincendo nettamente tutti i quattro quarti e portando a casa un sonoro 64 a 95 in cui si fanno sentire i 22 punti di Petra Azzuoli i 19 di Fattori e i 17 di Di Giulio Maria male nello stesso girone l'esordio per il Giulianova battuto a Sant'Elpidio 67 a 43 in Serie C Silver dicevamo ottimo esordio per la squadra di Di Salvatore che vince 69 a 39 contro l'NBC perde il basket Bolteramo sul campo del nuovo basket a Quilano il punteggio finale di 89 a 71 per i padroni di casa l'Atletica Vomano riporta l'Abruzzo alla ribalta nazionale dell'Atletica Leggera la società morese ha vinto la finale interregionale B maschile gruppo adriatico e ha festeggiato così la promozione in Serie A Argento il risultato è maturato nello scorso dei campionati italiani di società assoluti che si sono ottenuti sabato e domenica nella vittoria di Macerata il contributo maggiore per l'Atletica Vomano è arrivata da Gianluca Tamberi primo nel lancio del Giavellotto ma molto importanti sono stati anche i risultati ottenuti da Nazareno Di Marco secondo nel lancio del disco da Flavio Ferella secondo nel salto in lungo e da Leonardo Capotosti secondo nei 400 metri ostacoli ottimi risultati sono stati ottenuti anche dall'altra società terramana in gara nella finale interregionale l'Atletica Gran Sasso Teramo che ha raccolto tre vittorie individuali con Andrea Sinisi nel salto con l'asta con Giada Bilanzola nel salto triplo e con Giassino e Caburi sui 3000 siepi tra gli atleti in gara bene anche Gaia Sabatini che sugli 800 metri ha chiuso al terzo posto migliorando il suo primato personale addirittura di un secondo e mezzo una vittoria una sconfitta e questo è il bilancio fatto registrare dalle squadre terramane che militano nel campionato di serie 1 femminile di palla a mano nella seconda giornata a sorridere è stato il team Teramo che nell'esordio casalingua al pala Giorgio Binchi ha battuto il Nuoro per 29 a 25 male invece la Globo Almax Biohap da Teramo che senza la Oliveri infortunata al dito di una mano è caduta sul parquet di Ferrara 25 a 17 il finale in favore dell'Ariosto e in chiusura vi ricordiamo la programmazione sportiva prevista dalla nostra emittente per la giornata di oggi lunedì 28 settembre al termine del TG andrà in onda serie di ingol con tutti gli highlights delle gare disputate nel weekend nel girone F del massimo torneo direttantistico nazionale a seguire la gara Molabari Campi Basket in serata alle 21 tornerà il classico approfondimento dedicato al Teramo Calcio gli ospiti di Biancorossi saranno Mimo Di Antonio ex direttore sportivo del Teramo Roberto Marcangeli ex giocatore del Teramo Calcio e Giulia De Iulis tifosa del Teramo e promotrice della rinascita del glorioso club Biancorosso e proprio tutto grazie per l'attenzione e l'informazione naturalmente torna alle 19.15 buon proseguimento di giornata su Teleponte grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.